mamma mia mamma mia che cazzo sta combinando questo inter mamma mia secondo me va... se l'Inter potrebbe addirittura vincere l'Europa League mamma mia questa sera l'Inter... allora prima di cominciare vi faccio una promessa io comunque sono un tivoso del Napoli anche voi avete visto allora raga io sono anche sportivo ottima partita dell'Inter raga e che dire... cioè io mi metto le mani dai capelli e dico se l'Inter... raga se l'Inter vince l'Europa League... io faccio una live e canto il lino dell'Inter... e non ho gli astemi raga... questa sera l'Inter contro i Ghe... contro i Ghe... daffe... ben 2-0 con i gol di Alex Sanchez, poi all'ultimo a tutto, gol di Elicent, ovviamente chiedo scusa a tutti i napoletani che stanno guardando questo video, scusatemi, non sono spottivo, e poi ragazzi vorrei salutare prima di concludere a Capitano Napoli, estremo un bacione, poi saluto a Emanuele, poi saluto a Mako, un bacione, condividete, iscrivetevi al canale, dobbiamo andare ai 400 iscritti, noi ci mettiamo sabato con i big match di Napoli, bella!